Pierci, ma chi è quell'uomo? Non lo so Stringetevi tutti quanti insieme, per favore Un bel sorriso Bene Sì, signore Porti a quel tavolo una bottiglia speciale Molto bene, signore E chi devo dire che glielo offre? Può dire che è da parte mia È da parte del signore Quale? Lo conoscete? Scopra chi è Agli ordini Agnieszka Darei qualsiasi cosa per sentirti cantare stasera Ma so che non lo farai Così mi metti in imbarazzo Ma che cosa fa? Resta qui Come va? Lascerebbe una donna sola a un tavolo in un posto come questo? Te so Lei è il ritratto della solitudine Che magnifico profumo Mi trafigge il cuore Un'altra sedia, per favore Bocca per il mio amico Per la signora Un per noi E' un'altra E' un'altra E' un'altra